Sport Club Renese, sportiva Murcarolo, bene anche, più avanti, Caldè. Ricoppia, senior, per cortesia la premiazione, Corgeno e Renese. Si accende sempre di più questa gara del 4 di punta, vorrei sentire un po' di patos sulla tribuna. Vediamo che sta venendo bene fuori lo Sport Club Renese all'acqua 5, anzi Borrini, Sartori, Stradella, Timoniere, Mugnani. Poi in difficoltà al Murcarolo, prova ad approfittarne addirittura anche Caldè. Caldè, bene anche la canossia di Voltri. E la gara si accende, entra nel vivo, alzano tutti il numero dei colpi. Renese, Murcarolo e Falco, Rupenesso. Alza anche il numero dei colpi all'acqua numero 7. La canossia di Voltri, anche se in questo momento Renese, Nesso e Murcarolo sono in lotta per il podio. Ultime palate con l'annesso che va all'attacco dello Sport Club Renese, ma potrebbe essere troppo tardi. È troppo tardi. Sport Club Renese, stremato, ma campione d'Italia. Davanti al Falco Rupenesso, in terza posizione. La sportiva Murcarolo, in quarta. Caldè, in quinta. Una generosa canossia di Voltri.